è pazzesco come le piante siano riuscite a trovare così tanti modi per riprodursi e disperdersi per l'impollinazione alcune specie semplicemente fanno affidamento sul vento come mezzo di trasporto per il polline mentre tante altre sfruttano gli insetti nei tropici alcune piante sfruttano perfino i pipistrelli per la dispersione dei semi le piante attraverso vari meccanismi fanno sì che possano viaggiare per moltissimi chilometri sfruttando il vento oppure inglobando i semi all'interno di frutti appetitosi si assicurano che vengano distribuiti dagli animali altre piante invece li catapultano letteralmente in aria mentre altre ancora li fanno galleggiare sull'acqua e poi una volta raggiunto un buon sito è qui che inizia il processo veramente affascinante il seme completamente secco inizia ad assorbire molta acqua finché i tegumenti protettivi si rompono aprendo il seme da qui la piccola piantina spinge le radici nel suolo ed apre le foglie ripiegate nel seme seguite dalla formazione di una prima foglia vera e propria appena la piantina sviluppa i primi pigmenti verdi questa inizia a fotosintetizzare attraverso la piantina sviluppa i primi pigmenti verdi questa inizia a fotosintetizzare